Cari amiche e cari amici, sono le 5.41 di mattina ovviamente, ho appena concluso la prima preghiera, accendo il computer e trovo una brutta notizia. Già la fotografia dove si vedono Biden e Bergoglio che salutano, quindi un finto Papa e un finto Presidente che stanno insieme. E adesso vi leggo cosa si dicono. Papa Francesco chiama Biden, il Presidente eletto, dice Lavoreremo sui poveri, clima e migranti. Biden riceve dal Pontefice la benedizione e le congratulazioni. John Biden ha parlato oggi con Papa Francesco, lo ha ringraziato per aver ricevuto la sua benedizione e le sue congratulazioni, sottolineando il suo apprezzamento per la leadership del Pontefice nella promozione della pace, della riconciliazione e dei comuni legami di umanità nel mondo. Nel suo colloquio con Papa Francesco, il Presidente eletto ha espresso il suo desiderio di lavorare insieme sulla base della comune fede, nella dignità di uguaglianza di tutti gli esseri umani, su questione come le persone marginate e povere, la crisi del climate change, dare il benvenuto e integrare gli immigrati e rifugiati nelle nostre comunità. Lo rende noto lo staff di Joe Biden. E quindi veramente l'esaltazione del male, la scimmia di Dio che si traveste da bene. E qui o ce la fa Trump a rimontare, e pare che lo stia facendo, eh. Questa è una notizia buona invece, voglio concludere con questa notizia buona, che in tanti stati Trump sta rimontando calamorosamente. Ma se finiamo nelle mani di questi due, tutti questi processi di occupazione delle nostre città, e le persone marginate, come dicono loro, diventeremo noi in realtà. E quindi questo binomio di falso presidente e falso papa, eh, ci darà parecchi problemi. Comunque, noi continuiamo a pregare e avere fede in Dio. Vado a fare la mia seconda preghiera della giornata. Un caro abbraccio a tutti. Marco Cosmo